A qualche giorno dalla Fiera dell'Epifania, edizione numero 74, è tempo di bilancio analisi per capire cosa migliorare. Sicuramente è stata una fiera con meno ambulanti rispetto allo scorso anno, 240 banchi, ma è inevitabile, perché ci sono state zone out, come la piazza e il corso, dove c'erano le casette di legno del mercato natalizio, ma è stata comunque partecipata, più di 25.000 persone. La gente però chiede banchi nelle vie centrali, perché si è snodata soprattutto nella zona della villa e nel castello e stadio Fattori. Ma la fiera è ormai tradizione, per la gente è stata comunque una buona giornata, riuscita, con un flusso notevole anche dopo le 20. Tutto sommato ha funzionato la viabilità, ma vanno migliorati alcuni aspetti. In mattinata, ad esempio, un'ambulanza è rimasta ferma su Via Verdi, perché le fioriere intracciavano il passaggio e non è passata inosservata la polemica di un commerciante della piazza, che si è scagliato contro il comune senza mezzi termini. In un primo tempo, infatti, erano previste bancarelle anche nel lato non cantiere, poi a quanto pare cancellate con buona pace di chi non ha visto passare nessuno nelle loro attività. I numeri, ad ogni modo, sono stati importanti e testimoniano il legame di Aquilani e non con la fiera, perché c'erano molti gruppi provenienti anche da fuori regione. Buongiorno, da dove viene? Bicelle, provincia di Bari. Viene sempre, è un abituale della fiera? Eh sì, tutti gli anni siamo qua. La gente risponde a questi articoli sempre nuovi per la cucina? Noi cerchiamo di trovare sempre novità in modo tale che la gente almeno si incuriosisce. Come la trova? Siete contenti? Va bene, siamo contenti. La gente cosa apprezza di più dei vostri prodotti? Tutti i nostri prodotti di prima qualità. È una tradizione alla quale gli Aquilani proprio non vogliono rinunciare? Assolutamente, è un must, quindi bisogna rispettarlo, godercelo appieno e portarlo poi anche all'esterno, perché comunque è diventata veramente una tradizione importante per tutti. Ha comprato? Possiamo curiosare qualcosa? Ho comprato una sciarpa, ho comprato due cappelli, poi ho occupato le olive. Non si rinuncia alla fiera? No, no, niente, niente. Qualche cosa alla fine trovi. Grazie. Grazie.